Ad eccezione delle joint venture le tipologie societarie più utilizzate in India sono 5 la private limited company che è la forma societaria più vicina alla nostra SRL il branch office riconducibile alla nostra filiale il liaison office che è riconducibile all'ufficio di rappresentanza il project office per l'esecuzione di specifici progetti infine la public company che è utilizzata da imprese di medio-grande dimensioni spesso nella prospettiva di una quotazione in borsa vediamo adesso più nel dettaglio le principali caratteristiche delle società menzionate le caratteristiche principali della private limited company sono la responsabilità limitata un capitale sociale minimo di 100.000 rupie corrispondenti a circa 1.500 euro attenzione però nel caso in cui si intende utilizzare la parola India nella ragione sociale della private limited il capitale sociale minimo è di 1.000.000 rupie circa 15.000 euro il numero dei soci che può variare da un minimo di 2 ad un massimo di 50 un numero minimo di 2 amministratori una tassazione sui profitti di circa il 30% per operare nella stragrande maggioranza dei casi non è necessaria l'approvazione preventiva da parte della banca centrale indiana è importante sottolineare che le procedure costitutive della private limited sono di gran lunga più snelle con costi più contenuti rispetto alle altre forme societarie che analizzeremo il tempo medio di costituzione di una private limited si aggira intorno a 5-8 settimane la caratteristica principale del branch office è il mantenimento dello status di società straniera in territorio indiano di conseguenza la responsabilità è generalmente riconducibile alla casa madre nella branch office non sono ammesse attività di fabbricazione diretta le attività consentite sono import-export l'attività di manutenzione per prodotti foraniti della società italiana l'attività di acquisto-vendita per conto della casa madre ed infine sono ammesse le attività di trasporto marittimo e aereo per la costituzione della branch office la normativa indiana prevede la preventiva autorizzazione della banca centrale indiana e il deposito degli ultimi 5 anni di bilancio della casa madre in attivo la tassazione sui profitti della branch office è di circa il 40% è importante sottolineare che le procedure costitutive della branch office sono lunghe, complesse e generalmente più costose a fronte della considerevole produzione di documenti da tradurre in inglese, autenticare, apostillare e infine sottoporre alla banca centrale indiana il tempo medio di costituzione di una branch office si aggira intorno a 10-12 settimane il liaison office ha la funzione principale di rappresentare la casa madre in territorio indiano può svolgere attività di promozione, marketing e comunicazione per la casa madre non può intraprendere nessuna attività di tipo commerciale o industriale non può emettere fatture né generale profitti e pertanto non è soggetta a tassazione per la costituzione è inoltre necessaria la presentazione degli ultimi 3 bilanci in attivo della casa madre anche in questo caso serve la preventiva autorizzazione della banca centrale indiana in quanto a complessità, tempi e costi le procedure costitutive della liaison office si collocano a metà tra la private limited e la branch office il tempo medio di costituzione di una liaison office si aggira intorno a 8-9 settimane il project office viene generalmente costituito quando una società straniera si aggiudica una commessa in India e deve portare avanti l'esecuzione tecnica di un progetto il project office non può intraprendere attività diversa se non quella strettamente connessa al progetto da realizzare in questo caso a differenza dei casi precedenti non è prevista alcuna autorizzazione da parte della banca centrale indiana i profitti eventualmente generati dal project office sono soggetti ad una tassazione di circa il 40% la scelta della forma societaria da costituire è sempre connessa alle esigenze specifiche dei singoli casi a titolo esemplificativo qualora una società italiana sia interessata a intraprendere un'attività in India in tempi rapidi generalmente opterà per una private limited che come detto precedentemente è di gran lunga la forma societaria più utilizzata alcuni prenditori invece preferiscono inizialmente entrare in territorio indiano attraverso una branch ritengono infatti che il mantenimento dello status di società italiana assicuri loro una maggiore tutela in un paese che non conoscono ancora a fondo la scelta della branch office consente inoltre di evitare il versamento del capitale sociale e presenta il vantaggio di minori oneri in termini di spese di amministrazione e gestione un branch office non ha infatti l'obbligo di deposito e bilancio a titolo di esempio la branch office in India è la forma societaria più utilizzata dalle società di logistica e spedizione il liaison office invece è generalmente utilizzato per le attività di rappresentanza è ad esempio la forma societaria prediletta dalle principali banche italiane in India che non abbiano ancora una filiale operativa la normativa indiana individua tre macro categorie i settori chiusi dove non sono ammessi investimenti diretti dall'estero i settori semiprotetti per i quali occorre una preventiva autorizzazione governativa e spesso la partecipazione obbligatoria di un socio indiano e i settori aperti in cui vige l'approvazione automatica come ad esempio la maggior parte del settore manufatturiero per cui non serve alcun tipo di autorizzazione una volta verificato il settore di appartenenza vediamo ora le principali modalità di costituzione della private limited per ora la domanda per la domanda Grazie.